buongiorno a tutti ragazzi e ragazzi benvenuti in questo nuovo video questo sarà un video spacchettamento dall'azienda Born Pretty Store vi lascio il link qua sopra mi ha proposto di fare una collaborazione con loro e io ho accettato perchè su questo sito potete trovare tantissime cose riguardanti il make up la nail art la cartoleria stampi per resina e io non approfitto per prendere qualcosina per provare qualcosina per parlarpene ho messo tutto qui dentro allora innanzitutto ho voluto prendere questi che purtroppo mi sono arrivati un po' rovinati però sono gli sticker che uso spessissimo nella mia agenda ci sono queste bambine in diverse occasioni sono perfetti questi sticker per l'agenda sono carinissimi purtroppo si sono rovinati però questi costano veramente poco cioè un dollaro, una cosa del genere poi ho preso questa non mi ricordo perchè l'ho presa e questa è una penna mi pare sì, è una semplice penna con la fetta di limone non so, non mi ricordo perchè l'ho presa forse... ah sì, sicuramente perchè non c'è solamente questo modello ma c'è con l'arancia con l'anguria ed era quella che mi piaceva di più speravo di ricevere ho quella con l'arancia e quella con l'anguria ma siccome appunto venivano mandate random ho ricevuto quella che non volevo però va bene lo stesso perchè è molto estiva poi ho preso questi stessa storia appunto per quanto riguarda la penna perchè mi pare che c'era quello con il panda e sono appunto dei post-it io volevo volevo il panda però mi sono arrivati questi con la mucca che mangia il cioccolato carinissima e sono dei post-it e questa cosa si monta così ecco e poi sta ferma in questo modo è molto molto carino questo appunto da mettere sulla scrivania poi ho preso questi che sono dei memo sticky notes a forma di gattino e questi costano veramente pochissimo sul sito infatti ho deciso di prendere la maggior parte delle cose che ho preso riguarda la cartoleria le penne gli sticker i memo perchè costano veramente pochissimo e poi ho preso un tampone perchè appunto ero curiosa di provare un tampone di questo sito perchè costano pochissimo vabbè imparerò ad aprirlo ce la farò il pacco mi è arrivato in circa un mese perchè appunto è un sito cinese ecco qui il tampone sono riuscita ad aprirlo ha un colore meraviglioso spero che arrenda in fotocamera ed è dotato del suo tappuccio ovviamente e poi mi è arrivato a proposito di timbri tamponi un timbro questa è la cosa che costa di più perchè credo costi sui 3 dollari o sui 4 dollari non mi ricordo comunque è un timbro di questi appunto fatti così è molto carino per decorare per esempio la parte finale delle pagine infatti ora lo proveremo di tutte le cose che vi ho fatto vedere vi lascio il link in info box così potete vedere anche i prezzi e adesso andiamo subito a provare il timbro e il tampone volevo includerlo nella mia recensione di timbri e tamponi però è arrivato troppo tardi questo pacco in caso se vi interessa la recensione vi lascio la scheda ok dopo aver intinto il mio timbro voilà yeah non è venuto benissimo però ci riprovo ok diciamo che non funziona benissimo però potrebbe essere anche colpa del tampone quindi andrò a provarlo con un altro tampone ho preso il mio tampone della Memento che come sapete uso sempre e mi ci trovo veramente molto bene per vedere effettivamente se la situazione migliora e adesso arrivato a stamparlo su questo foglio ok quindi il timbro ve lo consiglio perché ho visto che hanno tantissimi timbri in legno fatti in questo modo ed era un po' che volevo provarli perché io fino ad ora sono solamente quelli in quelli trasparenti ecco per intenderci mentre i tamponi non ve li consiglio e comunque i tamponi costano veramente pochissimo e ovviamente non importa il prezzo ma la qualità però e sinceramente mi trovo meglio con questo che costa 10 volte tanto perché questo costa un dollaro mi pare o due dollari e questo costa 10 euro e niente questa è la mia review su questi prodotti che mi sono stati mandati dall'azienda e c'è anche una sorpresina per voi perché l'azienda mi ha offerto un codice sconto per i miei iscritti ed il codice sconto è NAMW10 ed è del 10% quindi se siete curiosi di provare questi prodotti vi lascio il codice sconto in info box fatemi sapere se acquisterete io vi mando tanti tanti baci e al prossimo video ciao ciao ciao